I rifiuti di Roma non saranno smaltiti in Emilia-Romagna. È stato raggiunto un accordo tra AMSPL e l'Asseale Ridambiente a darne notizia il parlamentare del Movimento 5 Stelle Michele Dell'Orco. È ufficiale, scrive su Facebook il pentastellato. I rifiuti saranno trattati nel Lazio in un impianto di trattamento meccanico-biologico avanzato di 40.000 tonnellate di rifiuti di Roma che quindi sancisce che nessun rifiuto della capitale andrà in Emilia-Romagna che tra l'altro ne avrebbe prese 15.000 tonnellate a maggior costo bruciandoli a Parma, Modena, Bologna. La polemica politica però non si esaurisce con l'accordo siglato a Roma. Infatti i consiglieri del Movimento 5 Stelle dell'Emilia-Romagna rispondono alle parole del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l'assessore competente Paola Gazzolo, i quali sostengono che l'Emilia-Romagna è totalmente autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti. Parliamo di 40.000 tonnellate di rifiuti quando la Regione Emilia-Romagna ne esporta, rispetto ai rifiuti speciali, 2.200.000 in paesi come Cina e India e ne importa da San Marino e dagli Stati Uniti. Alla faccia quindi dell'economia circolare, dell'autosufficienza sbandierata dal Presidente di questa Regione e della qualità dell'aria che verrà impattata negativamente dal traffico di rifiuti che, lo ribadiamo ancora una volta, è un business. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle fanno riferimento all'ultimo report sulla gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna, silato dalla Regione, da Arpa, e si può scoprire che dei quasi 14 milioni di tonnellate di rifiuti speciali ben 2,2 finiscono fuori Regione, prevalentemente in Lombardia, Veneto e Piemonte, ma anche all'estero, con più di 170.000 tonnellate che vanno a finire anche in Germania, Cina e Austria. In calza la consigliere Piccinini. Abbiamo analizzato il rapporto di Arpa 2016 e questi sono i dati che sono venuti fuori, alla faccia di quello che veniva detto dal Presidente di questa Regione, di un'autosufficienza che in realtà non esiste perché il traffico di rifiuti è un business per le società che questi rifiuti li trattano, un business al quale evidentemente non si voleva rinunciare. Grazie a tutti.